Questa è Queen Music & Art Festival, un palinsesto dei tanti eventi artistici, culturali e musicali che accenderanno l'estate cunese. Le città, la pianura e la contagna si accenderanno con questi grandi eventi. Quindi ricerchiamo tutto questo formal Queen Music & Art Festival per scoprire la grande offerta dell'estate cunese. Oltre a seguire gli grandi eventi sportivi, quest'anno seguiremo anche i grandi eventi musicali che vanno ad arricchire quello che è l'estate cunese. Grandi eventi musicali in un territorio straordinario dove offriamo una grande enogastronomia, offriamo anche una grande ospitalità e soprattutto una grande visione di quelli che sono i nostri territori. Ancora una volta la provincia eccelle con questi più di 80 appuntamenti musicali e diciamo teatrali perché c'è anche il teatro di strada, quindi saranno grandi momenti di intrattenimento in pianura e in montagna durante l'estate cunese con eccellenze assolute, abbiamo visto i nomi degli artisti che si esibiranno e sarà un momento di attrazione quindi forte. Animazione perché già qui a trascorrere le proprie vacanze ma sicuramente qualcuno verrà a scoprirsi grazie a questi eventi. E complimento ancora una volta la nostra TN che è la migliore del Piemonte per aver saputo metterci con l'unico cappello, l'unico contenitore, tanti organizzatori dando vita a un palinsesto che è veramente utile. Grazie.